ok ciao ragazzi oggi partiamo con una bella comparazione tra samsung a 51 questo e redmi note 8 questo entrambi hanno quattro fotocamere sblocco biometrico per il redmi note 8 sul posteriore sblocco frontale per samsung galaxy a 51 fotocamera con piccola lunetta o notch per redmi note 8 e buco nello schermo o chiamatelo come volete non mi viene un altro modo per chiamarlo per samsung galaxy a 51 allora partiamo con samsung galaxy a 51 il design accattivante sempre deciso ma molto bello il design dei samsung tre fotocamere in verticale e uno in orizzontale più flash in alto appunto come dicevamo uno schermo amoled quindi da 6 e 5 pollici con una risoluzione di 2400 per 1080 pixel ovviamente è un 4 g lte fotocamera da 48 megapixel allora la risoluzione la fotocamera è da 8000 per 6000 pixel registra video in 4k la risoluzione dei video che registra in 4k sono a 3040 per 1160 pixel lo spessore questo è di 7,9 mm quindi molto compatto e contenuto anche come vedete rispetto a redmi note 8 processore da 2 giga hertz un cortex a 73 4 giga di ram questo in questo caso 128 giga di memoria espandibili fino a 512 e la fotocamera frontale che non abbiamo detto prima da 32 megapixel allora batteria da 4000 mili ampere quindi le caratteristiche sono più o meno simili su entrambi redmi note 8 la casa cinese ci propone con diciamo la versione low cost di xiaomi questo telefono con 4 fotocamere in orizzontale e flash puntato sul fianco redmi note 8 a uno schermo da 6 e 3 in orizzontale con la risoluzione di 2340 per 1080 pixel ovviamente la fotocamera è da 48 megapixel anche lui e la risoluzione delle foto sono da 8.000 per 6.000 pixel registra anche lui video in 4k 2160 per 3840 il processo era una strep dragon 665 4 giga di ram in questo caso 64 giga di spazio d'archiviazione espandibile fino a 256 batteria da 4000 mili ampere passiamo allo speed test che partiamo con il chiudere tutte le applicazioni aperte e direi di cominciare con netflix mamma poi passiamo a telefono messaggi fotocamera inversione ri inversione non male per entrambi è quindi all'applicazione youtube vediamo la mail maps drive hai detto questo direi che la comparazione è più o meno diciamo che cambia il prezzo ma le qualità non sono così allora a parte esteticamente la qualità dello schermo in questo caso abbiamo un amoled e questo qui un ips è il terminato quindi il tft direi che come prestazioni non c'è questa grandissima differenza ovviamente questione di pochi centesimi di secondo la questione vera è una questione di gusti c'è chi preferisce samsung e c'è chi preferisce redmi o huawei quindi a voi il giudizio finale detto questo ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao